spesso tutti noi quando sentiamo parlare di cristo pensiamo a gesù di nazareth interpretato e compreso come l'incarnazione stessa di dio il figlio di dio quindi il salvatore in realtà possiamo invece interpretare il termine cristo in un'ottica più ampia e cioè nell'ottica più che altro di derivazione paolina così come viene ripresa dapprima la cagliar de chardin e poi in maniera sublima da padre bit griffiths un padre griffith diceva quando noi entriamo nella profondità della preghiera della meditazione nella profondità della cadena nostro cuore allora ecco che noi siamo in dio e dio è in noi non c'è quindi più dualità fra lo spirito di dio e il nostro spirito e si rifà al vangelo di san giovanni tanti anni fa parlando con padre bit mi fece comprendere questa concezione non duale della figura di cristo del cristo cosa questo cosmico è l'essenza stessa dell'essere della divinità e permea ogni cosa non solo gli esseri umani ma anche gli animali le piante ciò che in animato qualsivoglia cosa tutto è compreso nel cristo cosmico che è il logos il vangelo di san giovanni inizia con le parole all'inizio era il verbo il verbo era con dio e il verbo era dio il verbo il logos che poi per i cristiani si manifesta nella figura di Gesù di Nazareth è un principio cosmico preesistente in questo padre bid si rifaceva anche alla tradizione induista l'idea del brahaman lo spirito assoluto che poi si manifesta con gli avatar nelle varie incarnazioni cioè prende può prendere tante forme per manifestarsi ma fondamentalmente è uno spirito assoluto che è preesistente a tutto e allora questo cristo cosmico e è anche al di là della cristianesimo e al di là di una qualsivoglia adesione a un credo particolare cristo cosmico è il principio stesso dell'essere assoluto dello spirito assoluto e quindi non è né cristiano né hindu né buddista né musulmano cristo cosmico il principio dell'essere cosmico che poi ovviamente perché di una tradizione cristiana chiamerà cristo cosmico altro chiameranno in altri modi ma il principio assoluto dell'essere del logos per la parola creatrice della dello spirito creatore iniziale colui che sostiene e crea e manifesta tutto il mondo per tutto ciò che esiste l'intero universo ovviamente è al di là e oltre le appartenenze religiore e allora è importante quando festeggiamo per esempio il natale che non ci soffermiamo solo sul presente sul bambinello e sul quindi solo sull'incarnazione se vogliamo ma invece vediamo per esempio natale come la nascita o meglio la manifestazione di questo principio assoluto che è un principio che è valido per tutto e per tutti indipendentemente che ci sia cristiani o appartenenti un'altra fede o senza alcuna fede perché il principio dell'essere il principio del logos universale del cristo universale ovviamente presente in tutto ciò che vive e quindi in ogni essere vivente di qualsivoglia bello forse celebrare il natale in un'ottica così totale cosmica di questo punto lasciando da parte le varie appartenenze pur importanti e aprendoci invece al mistero dell'assoluto e quindi del cristo cosmico della natura di buddha se siamo buddhisti del brahman se siamo questi o semplicemente dell'essere per tutti gli altri musica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti